I genitori non possono permettersi di dire che non capiscono nulla degli strumenti digitali, altrimenti gli adolescenti continueranno a usare con scaltrezza questi mezzi. Parola dell'esperta di social network Ambra Visconti, che ha spronato le famiglie a rimboccarsi le maniche per imparare al meglio il funzionamento di internet, chat, app, smartphone, tablet e tutti gli altri tasselli della dimensione virtuale. Nelle prossime settimane un vero e proprio corso di formazione rivolto agli adulti prenderà il via grazie all'impegno dell'associazione Link Lab. Gruppi di ascolto e confronto con gli specialisti si terranno il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 nella sede di Via 4 Novembre e si attiveranno al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti. Per maggiori informazioni o richieste di adesione bisogna scrivere all'indirizzo email info-link-lab.org. In attesa dell'avvio dei corsi, le cui date verranno comunicate al momento dell'iscrizione, nella cornice dell'albergo in strada Valnure si è svolta una serata di presentazione del percorso con gli interventi di Visconti e dell'ispettore capo della Polizia Postale di Piacenza Pietro Vincini. Nei prossimi appuntamenti, ha annunciato l'esperta, gli argomenti trattati saranno quelli della conoscenza dei social network a maggiore diffusione tra i giovani e tra i giovanissimi, come TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram e Discrash, nonché la guida all'utilizzo consapevole, sicuro e utile del web, identificandone rischi e pericoli.